A Firenze, dove abitavamo la maggior parte dell'anno, lo squadrismo era insorto con violenza. Le elezioni del 21 furono molto movimentate. Noi bambini andavamo a scuola con un pezzo di carbonella in tasca, con cui scrivevamo sui muri, «Abbasso il fascio», «Abbasso Mussolini», «Viva la Repubblica» e altre cose consimili. Un giorno, che pubblicavo così le mie opinioni politiche su un muro vicino a casa, vidi un giovanottone con la camicia nera, bene vestito e coi capelli impomatati, in piedi, accanto a me. «Dì viva il fascio e viva Mussolini», mi disse sorridendo. Siccome tacevo, mi dette due manrovesci. «Dì viva il fascio e viva Mussolini!» «Ma io sarei morta, piuttosto che perdere la stima dei miei genitori!» «Morte al fascio!» S'inghiozzai tra le lacrime. Mi arrivarono altri due ceffoni che quasi mi svitarono la testa. Corsi a casa con gli occhi gonfi e il sangue che mi colava dal naso, e trovai mia madre. Mi lavò il viso con acqua fresca, mi dette una fetta di pane con burro e zucchero sopra, e mi ascoltò in silenzio. Poi mi disse, «Hai fatto bene!» Solo dopo molti anni capì quanto doveva esserle costato. Avevo nove anni.